Ciao a tutti ragazzi, sono Antissimo Games e benvenuti in questo nuovo video in cui vi farò vedere come scaricare Black Ops 2 prima dell'uscita del gioco e gratuitamente per tutte e tre le piattaforme Xbox 360, Playstation 3 e PC. Innanzitutto dobbiamo andare sulla baia.ws, vi metterò il link in descrizione, sarebbe dei pirata ebay per l'Italia, visto che è stato oscurato in Italia. Allora, quando andrete a cliccare su questo link vi darà questa lista. In questa lista dovrete andare a cliccare sul file in cui siete interessati. Non andate che ne so se c'è scritto JTAG e queste cose qua perché quelle sono le hack che non servono, cioè non le usate insomma. Dovevo andare a trovare il gioco. In questo caso io sto scaricando Call of Duty Black Ops 2 RF Xbox 360. Comunque, per regolarvi vi dovete vedere anche sulla grandezza che si gira intorno agli 8 GB. Oppure c'è anche questa, Call of Duty Black Ops 2 ISO, insomma Xbox 360 o anche altre. Insomma, vedete voi anche per la vostra piattaforma. Naturalmente per giocarci dovete avere una console modificata oppure dovete giocare su computer. Che non necessita di una modifica appunto. Quindi poi andiamo a cliccare sul link che ci interessa. Andiamo su Get Disturrent e scarichiamo il gioco. Quindi niente ragazzi, spero che il video vi sia stato utile. Lo so, oggi è l'8 novembre e uscirà il 13, però l'ho scoperto ora questo metodo. Quindi, insomma, sempre meglio se lo volete provare prima, prima di acquistarlo. Insomma, questo è un metodo. Per averlo anche prima, magari farci dei video su YouTube. Diciamo, oh guarda questo c'è Black Ops 2 prima dell'uscita. Vabbè niente ragazzi, adesso. Quindi, niente. Ci vediamo in un prossimo video. Vi ringrazio tutti per la visione. Mettete un bel mi piace, tutti i link in descrizione, condividete con gli amici, mettete tra i preferiti, iscrivetevi al canale soprattutto. Quindi ragazzi, ci vediamo in un prossimo video e ciao a tutti.